Questo manifesto europeista lo si deve alla fantasia di Corrado Mancioli e dalla volontà di tante sigle di associazioni giovanili italiane. Viene dal 1952, un anno cardine importante per il movimento europeista in Italia e in Europa e un anno cardine anche per l'impegno europeo di Alcide De Gasperi. È l'anno in cui Alcide De Gasperi coltiva il grande sogno di un'Europa che non sia fatta solo di trattati ma che sia fatta anche e soprattutto della volontà di tante persone, non un'Europa dell'élite ma un'Europa di molti. È l'anno in cui si combatte per portare a termine il progetto della Comunità Europea di Difesa, l'esercito unico europeo che nella visione di De Gasperi avrebbe aperto le porte a un'Europa democratica, a un organo democratico eletto dai popoli europei per dettare le linee dello sviluppo dell'Europa unita. Un progetto che non andrà a buon fine, sarà l'ultimo grande sogno ma anche l'ultima grande delusione della vita di Alcide De Gasperi. Il progetto, come è noto, naufragherà proprio pochi giorni dopo la morte di Alcide De Gasperi in Sella il 19 di agosto del 1954. Eppure rimane il segno di un grande tentativo, un grande tentativo collettivo che vide grandi uomini come i padri fondatori e tante altre persone darsi da fare verso un obiettivo comune. Un traguardo comune che è quello che ancora l'Europa può rappresentare per molti di noi, a patto che come in questo manifesto non sia un'Europa dei pochi, non sia un'Europa dell'elite, ma sia l'Europa di molti e soprattutto l'Europa dei giovani.